Lo stato di agitazione resta e non sono escluse altre forme di protesta, ma i pescatori della marineria di Termoli hanno deciso di tornare in mare. La scelta fatta nel corso di un incontro al mercato ittico dopo lo stop stabilito una settimana fa. Riprendere il largo per garantire il rifornimento dei mercati anche locali. I pescatori molisani vogliono assicurare la distribuzione del pescato e non permettere l'ingresso di ulteriori pesce di importazione e di altre marinerie. Alla base di questa decisione c'è certamente anche la mancanza di una cassa integrazione per i lavoratori. Dobbiamo pensare anche a sopravvivere ma senza abbandonare le contestazioni comuni per la nostra causa, la voce unanime dei pescatori. Annunciati dal governo 20 milioni di euro, il caro gasolio però resta un problema. Si è deciso di tornare in mare, questo per rifornire almeno i mercati e per non far sì di aumentare il pesce di importazione soprattutto per la mancanza di cassa integrazione. Il tentativo è quello di ritornare in mare e di vedere se alla fine si riesce a fare reddito. Questa è stata una decisione necessaria presa da quasi tutti, almeno provando e vedendo come va la situazione.